Questa è la seconda edizione, la prima era un'edizione che portava avanti anche una cosa nuova, cioè di interagire, di far interagire tanti ragazzi delle scuole elementari e medie con uno sport non molto diffuso dalle nostre parti, quello del rugby che però ha tanti appassionati e dimostra anche come si possa fare sport con tanto agonismo ma pulito senza che accadano fatti spiacevoli come spesso succede nel mondo del pallone. Ha visto l'anno scorso la partecipazione di oltre 600 ragazzi, quest'anno coinvolge quattro scuole, la Barra, la Lanzalone e altre due, e quindi è una cosa simpatica oltretutto perché questa partecipazione sarà svolta in quattro piazze in più zone di Salerno dove quindi anche chi da semplice spettatore può partecipare anche se solo visivamente ma può essere coinvolto in una pubblicizzazione di questo sport. Non credo è uno sport che devono regolamentare la partita ma ci sono gli stessi tecnici e i ragazzini nel momento in cui sbagliano vengono educati, si fa loro capire perché, che cosa bisogna fare e che cosa non bisogna fare. Questo nelle altre federazioni non esiste. Quindi bisogna dire bravi ai tecnici, bravi alle società e speriamo che le altre federazioni delle altre discipline sportive possano non dico imparare ma perlomeno rendersi conto dove loro sbagliano che è molto importante. L'esempio ultimo ce l'ha dato il calcio nelle ultime partite che noi abbiamo visto laddove non c'è fair play, non c'è rispetto dell'avversario e soprattutto predomina la violenza e questo nello sport assolutamente non deve accadere. Sì, è la seconda edizione e viene un po' la ciliegina sulla torta di una stagione sportiva dell'associazione sportiva la Riki Rugby che ha visto il raggiungimento di un traguardo storico e da record nella regione Campania che è la Perfect Season. 16 partite e 16 vittorie per la formazione Signores e appunto questa manifestazione costituisce proprio questa ciliegina sulla torta, cioè il momento apicale in quanto l'obiettivo principale dell'associazione sportiva è la valorizzazione dei giovani e dello sport e soprattutto far conoscere lo spirito sportivo del rugby un pochettino ai bambini e agli studenti della città di Salerno. Infatti la manifestazione prevede quattro giornate in cui saranno coinvolti diversi istituti scolastici e l'ultima giornata, il 27 maggio al Terzo Tempo a San Mango, prevediamo di fare una vera e propria festa di sport coinvolgendo gli studenti delle varie scuole partecipanti, gli insegnanti e i genitori in una vera e propria festa di sport. Sì, eleganza, sport e educazione, cioè questi sono un po' i valori che caratterizzano la nostra attività sportiva che cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni dove i valori sono leggermente opachi. Quindi nel nostro rispetto, una parola che non è molto presente, rispetto per i compagni, rispetto per gli avversari rispetto per l'arbitro che consente ai ragazzi di svolgere la loro attività. Quindi stiamo cercando, io in altre occasioni ho detto, metterei questa disciplina obbligatoria nelle scuole dove praticamente i valori sono un ex insegnante, quindi non sono più quelli di una volta. Quindi i nostri ragazzi non sono abituati alle regole, quindi ogni volta che si trova la stabilita fanno resistenza, poi mano a mano si abituano e vediamo che questi ragazzi poi hanno un ottimo sviluppo.